E dopo le notizie rientriamo in studio, io sono in compagnia di Eugenio Celestino, presidente della nuova prologo di Camigliatello Silano. Ben ritrovato, presidente. Grazie, ben trovati a voi. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, continuo alla grandissima l'Octoberfest a Camigliatello Silano. È una festa che ancora non si ferma, è così? No, non si ferma perché ormai le nostre manifestazioni autunnali sono riconosciute a carattere ormai interregionale. Il nostro territorio si presta molto in questo periodo ad accogliere i turisti, per cui abbiamo cominciato dai primissimi di ottobre con l'ormai storica Sagra del Funco. Continuiamo con l'Ottobrefesta, ma non ci si ferma ad ottobre perché a seguito delle tante richieste, delle tante sollecitazioni ricevute, da ottobre passiamo anche nel mese di novembre. Quindi allungheremo le manifestazioni in questo ponte già in corso fino al primo di novembre di Ogni e Santi e continueremo anche il primo fine settimana, quindi fino al domenica 5, sempre con la stessa struttura di manifestazione, quindi stande neogastronomici sul corso, tanta musica, tanta animazione sul corso per accogliere tante persone che continuano a frequentare il nostro territorio e che ci chiedono addirittura anche se dopo questo fine settimana continueremo ad avere delle manifestazioni. Quindi, Presidente, una formula vincente? Sì, la formula assolutamente vincente perché il nostro territorio offre tante possibilità, soprattutto dal punto di vista enogastronomico in questo periodo e poi, come dire, la giusta comunicazione e la giusta accoglienza fanno il resto, per cui siamo ben felici di accogliere le numerose presenze che nei fini settimana affollano il nostro territorio. Ecco, Presidente, la Sila è stupenda in questo periodo dell'anno, a parte i propri colori, ma la raccolta dei funghi, i prodotti tipici, è un po' un periodo molto favorevole. Sì, assolutamente, diciamo che, allora, per me che sono un Silano, per me la Sila è bella. È sempre bella. Quattro stagioni all'anno, 365 giorni all'anno. Poi ogni stagione ha la sua peculiarità, questa autunnale sicuramente dal punto di vista dei colori, soprattutto, quindi questo passaggio dal verde al rosso attraverso il giallo, il cosiddetto ormai anche famoso foliage Silano, che offre questi spettacoli alla vista molto belli e molto interessanti, insieme ai prodotti dell'ernogastronomia, perché l'autunno è il periodo in cui, diciamo così, sbocciano, usando un buon termine, forse improprio, però sbocciano i funghi, che sono dei frutti molto interessanti, quelli di Silani, riconosciuti a livello micologico. I funghi porcini della Sila, Presidente. Principalmente il fungo porcino, che è il cosiddetto re della montagna, della montagna silana, insieme ad altri prodotti che in questa stagione trovano il loro momento migliore, come anche la patata della Sila, prodotto riconosciuto a livello anche europeo con il marchio IGP, per cui i colori e i sapori di questo periodo sono probabilmente i più interessanti, sicuramente. E allora, si continua con la festa Silana, Camigliatello, ricordiamo i prossimi appuntamenti e chiudiamo. Sicuramente, sono da giorno 1 novembre a sabato 4 e domenica 5, con tanta animazione sul corso, con la nostra offerta di stand no gastronomici, di animazione, di musica, di gruppi folkloristici e di tutto quello che il contorno offre insieme a noi. Vi aspettiamo in Sila. Vi aspettiamo, Camigliatello, vi aspettiamo in Sila. Grazie, grazie mille al Presidente della nuova Proloco di Camigliatello Silano e Eugenio Celestino e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, cioè domani. Grazie.